Il tempo stringe e ci vuole un po' di riflessione, ci vuole un lento, ci vuole una canzone ballando la quale tutti noi possiamo pensare a quello che è accaduto nel 2007 e a quello che vorremmo che accadesse nel 2008. E allora quale interprete migliore di Rocco Tanica per esprimere proprio questo sentimento? E allora quale interprete migliore di Rocco Tanica? C'è il vitello con i piedi di balza, il vitello con i piedi di spuglia e domina chi c'è? C'è pure il vitello con i piedi di cobalto. C'è il vitello con i piedi tornati, qua con i pedagli sono gli animali che la mia è la tua patatia. C'è il vitello con i piedi di balza, il vitello con i piedi di cobalto. C'è il vitello con i piedi di balza, il vitello con i piedi di cobalto. C'è 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 il vitello con i piedi di cobalto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.